Il mio cavallo è furbo, mi sta proprio prendendo in giro. Chissà quante volte hai sentito dire questa frase. Beh, se vivi nel mondo dei cavalli sicuramente l'avrai sentita veramente decine e decine di volte. Allora oggi ne parliamo perché è un tema piuttosto interessante. Prima la sigla e poi entriamo nell'argomento. Ciao, io sono Rachele Malavasi e questa è la mia rubrica e quindi domandamelo. In cui voi mi fate delle domande io cerco di darvi delle risposte. Questi video e insieme anche a altri contenuti li trovate sul mio canale YouTube, su Instagram, su Telegram e su Facebook. Tutti e quattro questi canali social hanno lo stesso nome, Etologia Equina con Rachele Malavasi. C'è inoltre il mio sito personale www.etologiaequina.it dove trovate il blog, appunto i video. Trovate anche una pagina dove potete contattarmi per esempio per ricevere una consulenza personalizzata online o dal vivo. Ovviamente mi potete anche contattare per farmi proprio queste domande. Ora questa in realtà non viene da una domanda ma c'è una ragazza che mi ha chiesto una consulenza e io le ho chiesto di filmare la sua cavalla mentre faceva una tale cosa e lei poi mi ha risposto guarda ci ho provato ma la mia cavalla è furba, non si è fatta filmare, cioè nel senso non ha fatto niente quando sono andata e mi ha dato il là per un video che volevo fare da un po' di tempo che è proprio questo. Allora il concetto di è furbo e mi sta prendendo in giro sono due concetti leggermente diversi ma hanno un filo conduttore che è un po' una antropomorfizzazione cioè una proiezione sul cavallo di quello che sentiamo noi. Soprattutto la seconda cioè mi sta prendendo in giro perché il mi sta prendendo in giro implica che il cavallo voglia farci fare una brutta figura. Cioè prendere in giro, in qualche regione d'Italia si dice anche mi sta portando in giro, è proprio prendere qualcuno e esporlo all'odibrio di tutti come fosse uno scemotto. Il cavallo ovviamente non vuole far fare una brutta figura a nessuno. Quando si dice mi sta prendendo in giro però ci si proietta un po' di quello che noi stiamo provando, quell'imbarazzo, quel senso di impotenza perché non siamo riusciti a ottenere dal cavallo quello che vogliamo. E da lì nascono molti problemi perché chi si sente preso in giro dal cavallo poi ritiene di doverlo punire, ritiene di dover dimostrare la sua autorità, ritiene di dover fare tutta una serie di cose che per il cavallo non hanno assolutamente senso. Vi faccio un esempio che non riguarda il cavallo ma che riguarda altri animali. C'è un uccello di cui non ricordo purtroppo la specie che fa il nido nella sabbia vicino alla macchia mediterranea. Chi vive a Roma per esempio vicino alle dune di Ostia. Cosa fa questo uccello? Quando un predatore si avvicina, visto che è più facile che si avvicinano i predatori perché il nido è a terra, non è sugli alberi quindi non si devono arrampicare, uno dei due genitori fa finta di avere la larotta, la trascina a terra e fa in modo così, spera che il predatore non vada al nido ma vada piuttosto a rincorrere lui e nel momento in cui gli arriva vicino poi spicca il volo perché in realtà sta benissimo. Allora possiamo dire che quest'uccello sta prendendo in giro, mettiamo caso che sia una volpe, sta prendendo in giro la volpe? Dipende che cosa intendiamo. Se intendiamo la presa in giro nel senso la volpe ha fatto una brutta figura, è veramente una proiezione antropomorfica. Quello che è successo è che l'uccello ha messo in atto un suggerimento che gli ha dato la natura, poi ovviamente ha scelto di mettere in atto quel comportamento, però la natura in quel momento gli ha suggerito di trascinare l'ala perché gli ha detto guarda è così che si fa da migliaia di anni fallo perché secondo me quella volpe ci casca. Ora non è che la prenda in giro nel senso che a questo punto la volpe si può sentire meno rispettata, si può sentire che si deve vendicare, andrà con più foga a cercare le uova, avrà più fame, è una cosa diversa, quindi magari andrà con più foga a cercare le uova perché ha più fame ma non perché si sente presa in giro, non ha senso. Anzi, quando noi guardiamo un documentario in cui vediamo una scena di questo tipo spesso siamo affascinati dall'uccello che trascina l'ala. Perché? Perché è un animale selvatico e non ha niente a che vedere con la nostra influenza. Un animale domestico come il cavallo è come se non avesse il diritto di tirare fuori un comportamento elaborato e magari furbo, non nel senso furbo che ti prende in giro, ma furbo nel senso ben pensato sulla base della situazione, come se un animale domestico, questo vale anche per il cane o per il gatto, non avesse il diritto di mettere in atto le stesse strategie che la natura gli ha dato che sono le stesse come tipo che ha dato a quell'uccello di cui abbiamo parlato prima. Per esempio c'è un articolo in cui nel titolo si parla proprio di poker face, la faccia da poker del cavallo, in cui si spiega come i cavalli quando vanno in clinica spesso fanno finta proprio di non avere dei problemi, perché ha un atteggiamento da preda. Non è che in quel momento il cavallo sta facendo il furbo, ma in quel momento il cavallo sta mettendo in atto un suggerimento della natura e dice beh sì forse la natura in questo momento mi suggerisce fare la faccia da poker, faccio la faccia da poker. Simile anche se leggermente differente è il caso del cavallo che non ha voglia di fare l'attività con voi, quindi magari si finge stanco oppure si finge assetato o appunto si mette a fare qualsiasi altra cosa, addirittura qualcuno si finge zoppo, non lo fa per prendere in giro voi, lo fa perché sta cercando di togliersi di dosso un problema, è esattamente come quell'uccello che trascina l'ala, non lo fa per voi, voi non c'entrate niente, non siete sempre i protagonisti di tutto il mondo intero, in quel momento lo sta facendo per se stesso, per cercare di risolvere un problema, non c'entra niente nessuna considerazione che il cavallo può fare nei vostri confronti, lui vede un problema, cerca di risolverlo, tutto qua. Detto questo vi invito a partecipare agli ultimi ultimissimi incontri non solo del 2023 ma anche di tutto il 2024 perché nel 2024 non tengo corsi, tranne il master dell'università di Parma che è partito e di cui io sono una dei docenti, ma piuttosto mi dedicherò a scrivere il libro, visto che sarà un libro impegnativo mi ci dedico completamente. Quindi i corsi che si tengono questo fine settimana sono a Rimina, Padova e Brescia e riguardano lo sviluppo della personalità del cavallo e l'effetto delle attività equestri su di loro, quindi è quello che io ribattezzo come il seminario della consapevolezza. Fatemi sapere cosa pensate di questo video e ci vediamo alla prossima e mandatemi le domande ovviamente. Ciao ciao!